Siamo a Pesaro con Fabio Martedì, operatore di psicologia energetica. Qui con lui parleremo di fisica quantistica e la sua applicazione nella vita quotidiana. Con la scoperta di Planck si è visto che la materia è formata da quanti e questo ha dato via a una nuova indagine nella realtà che porta alla nascita della meccanica quantistica e poi successivamente della fisica quantistica. Quali sono gli orizzonti che si sono aperti con questa nuova scienza? Gli orizzonti che si sono aperti sono veramente sconvolgenti e soprattutto ancora altre cose sono da scoprire. Ma quello che già adesso possiamo dire è che circa tre secoli, più di tre secoli di fisica classica sono state spazzate via dalla fisica quantistica. Però intorno al 1920, appunto con i primi fisici, quelli che poi verranno chiamati fisici quantistici, si scopre e si fa una scoperta che il mondo subatomico è un mondo che non risponde alle leggi deterministiche. E il primo fisico che scoprì questo fu Heisenberg, che da lui prese poi il nome di principio di indeterminazione di Heisenberg. Cosa significa? Che osservando queste particelle subatomiche il loro comportamento non era prevedibile, vale a dire che era indeterminato che se si misurava la posizione della particella questa cadeva appunto in una particella solida. Se invece si misurava la sua velocità, quindi lo spostamento e il movimento, diventava un'onda. Quindi contemporaneamente c'erano queste due possibilità all'interno della particella, o particella o onda. Questo cosa significa? Significa non solo che l'elettrone, il fotone, possono assumere, hanno allo stato potenziale, due cariche diverse, appunto particella o onda, ma che l'osservatore, nell'atto stesso della scelta, cioè nel momento in cui decide se misurare la posizione oppure il movimento, fa decadere uno stato virtuale in uno stato reale. Quindi per la prima volta appare l'osservatore nella scena. Nella vecchia fisica classica, invece, l'osservatore era completamente escluso, non aveva nessuna importanza, soltanto gli oggetti dell'esperimento contavano. Invece con la fisica quantistica appare questa nuova figura, l'osservatore. Cioè l'osservatore determina quello che accade, cioè la scelta dell'osservatore determina appunto quello che accade. È una cosa sconvolgente, perché questo dà di nuovo, più che di nuovo per la prima volta, un'importanza, diciamo, assoluta all'essere umano che può, stando a questa scoperta, agire sulla materia. Cioè agire sulla materia vuol dire che attraverso la sua capacità, la sua intenzionalità, l'essere umano può modificare la materia. Quindi modificare la materia significa modificare il suo ambiente. Ora, dopo questa prima scoperta ne avvenne un'altra che in sostanza stabiliva che due particelle, cioè da un unico atomo scisso, due particelle allontanate l'una dall'altra in direzione opposta riescono se ad una delle due viene imposto un certo movimento, contemporaneamente anche l'altra si muove nella stessa direzione. E questo avviene anche a distanze enormi. Vale a dire che come fa la particella lontana a sapere che l'altra particella si è mossa cambiando il suo movimento. Teoricamente questa cosa, stando alle leggi della fisica classica, non è possibile perché ci dovrebbe essere uno spostamento di informazioni che viaggiano alla velocità della luce, anzi superiore alla velocità della luce. E questo non è possibile. Quello che scoprirono i fisici è che in realtà non c'è trasmissione di informazione fra le due particelle, ma l'informazione è già contenuta all'interno della particella. Vale a dire che tutto è collegato. La grande scoperta della fisica dei quanti è quella appunto di scoprire che tutto l'universo è collegato. Praticamente noi come possiamo utilizzare questa cosa? Innanzitutto cercando di utilizzare queste scoperte proprio per comprendere quello che abbiamo attorno, quello che viviamo nella vita quotidiana e cominciare a mettere tutto quanto in discussione, proprio disubbidire a quello che ci è stato detto e a cui abbiamo sempre creduto. In realtà è ora che ognuno di noi comincia a formarsi una nuova struttura mentale. E quali sono le strategie per poterlo fare? Quelle che io utilizzo sono strategie che vanno dalle più antiche come la meditazione. Utilizzo delle tecniche in particolare diciamo un percorso, un percorso attraverso diverse situazioni che porta ad amplificare la nostra energia fino al punto di sentire effettivamente quanto è possibile espandersi al di là del corpo. Cioè il nostro corpo che noi percepiamo come il nostro limite fisico in realtà è soltanto un'illusione. La nostra natura è molto ma molto più estesa ecco attraverso questi esercizi abbiamo la percezione di questa natura estesa. La vera natura della mente è una natura quieta che molto spesso agisce per intuizione. Vale a dire che quando entriamo in uno stato di attenzione profonda effettivamente noi attingiamo ad un potere molto più grande di quello che noi pensiamo di essere molto più grande e questo ci porta immediatamente al di là dei problemi quindi non più una mente duale che dice sì e no giusto o sbagliato o destra o sinistra ma una mente diciamo allargata che va al di là del dualismo e attraverso l'intuizione dà una risposta su quello che dobbiamo fare e sull'azione sulla giustazione da fare. Quindi ritorniamo un po' ai filosofi e saggio orientali quello che dicevano loro insomma. Sì sicuramente appunto tutto quanto quello che ci arriva dall'Oriente sembra essere confermato dalla fisica dei quanti. Quindi andiamo in argomenti molto complessi e profondi che però occorre fare. Grazie per l'intervento è stato molto esplicativo e quindi ritorneremo un'altra volta con lei. Arrivederci. Arrivederci, grazie.